E allora è partita Questa prima serie Di nuovo medaglie che si assegnano Qui nella vasca di Montichiari Record di Samuele Botter Del 2011 56 e 75 Sami Benomar 27.00 Il passaggio su Lorenzo Piria 27.11 e Marco Menta 27.19 Menta già medagliato Ai giovanilli nelle prove della Rana Tre atleti più o meno Sulla stessa linea Benomar, Piria e Menta Sono tutti quanti Del 2002 Attenzione anche a Gadiaga Quaggiù in prima corsia Anche lui 2002 58.69 Lorenzo Piria Su David Gadiaga 58.76 Sami Benomar 58.99 Grazie a tutti